buongiorno buongiorno a tutti oggi è martedì 17 maggio 2016 siamo in diretta buongiorno buongiorno ben ritrovati allora 7.30 cominciamo dal santo del giorno vediamolo subito e poi andiamo a vedere le previsioni del tempo oggi è San Pasquale Bailon un religioso che è nato in Aragona nel 1576 se non ricordo male andiamo a vedere subito 1540 il sole è sorto alle 5.39 tramonterà invece alle 20.30 che tempo ci attende oggi lo vediamo subito oggi avremo un cielo regolarmente nuvoloso al mattino con schiarite a partire da nord poi lungo il pomeriggio migliorerà ancora di più le precipitazioni saranno nelle ore centrali della giornata avremo deboli rovesci sparsi nelle zone interne nei settori però meridionali della regione poi i fenomeni si andranno a esaurire domani domani giornata come dire sospesa perché poi arriverà il cattivo tempo nella giornata di giovedì però avremo un cielo sereno un poco nuvoloso ecco invece il maltempo previsto per giovedì con precipitazioni nelle ore centrali diffuse anche a carattere di rovescio di temporale più intense durante la serata di giovedì le temperature sono in diminuzione nei valori massimi ancora condizioni di variabilità per il fine settimana per il probabile transito di una perturbazione atlantica nella giornata di domenica andiamo allora subito a vedere i giornali della nostra edicola cominciamo dal messaggero la pagina di pesaro spacca l'ex presidente della regione dice ai giudici processatemi subito per quanto riguarda le spese facili in regione via alla maxi udienza ricci che è stato morso da una vipera nei giorni scorsi ha chiesto un rinvio però gli è stato negato l'ex governatore chiede il rito abbreviato l'avvocato gamberini ha spiegato dice ogni cifra un'udienza che però è durata appena una manciata di minuti la richiesta infatti di un nuovo rinvio da parte dell'avvocato calvi per legittimo impedimento del suo assistito l'ex capogruppo del pd mercolici che è in ospedale per il controllo un controllo dopo essere stato morso il 7 maggio da una vipera mentre andava a funghi a monte copiolo ha fatto scattare la visita fiscale a centro pagina invece dopo il corteo l'ospedale unico a Fosso Signore si tira dritto il pd ed il presidente della regione dunque tirano dritto incuranti della manifestazione di domenica mentre occupava una casa cantoniera coltivando addirittura la marioana la polizia ha denunciato un ventenne allontanandosi dalla famiglia sotto i centri job senza pulizie i lavoratori manifestano giovedì mattina ci sarà un presidio davanti alla provincia degli addetti alla pulizia della società cm service che sono da giorni ormai in ferie forzate protestano i sindacati le pagine interne dicevamo delle spese in regione spacca dal giudice processo subito e poi l'altra pagina quella dedicata all'ospedale unico il pd e ceriscioli tirano dritto il corteo contro Fosso Signore come luogo in cui costruire questo ospedale non fa arretrare il governatore che parla di un progetto alla stretta finale a giorni infatti dice ceriscioli scioglieremo tutti gli ultimi nodi dunque vi diremo cosa faremo di questo ospedale unico Gostoli che è il segretario del pd parla di una mobilitazione soltanto ideologica con partecipanti divisi su tutto meno che sul pregiudizio contro di noi contro il partito democratico il sindaco di Fano invece quelli che hanno manifestato marciato per difendere l'area di Fosso Signore chiedono al sindaco di Fano Massimo Seri coraggio e soprattutto di guidare la battaglia in difesa dell'ospedale attuale quello del Santa Croce poi sulla pagina di Pesaro del messaggero Cantiere Baratov il circolo si prepara per la Coppa Davis di tennis dal montaggio delle tribune all'allestimento dei campi lunedì arriva la Terra Rossa già venduti 500 abbonamenti ma in consiglio comunale a Pesaro è già polemica per i costi di questa operazione opzione in trincea sull'arena dei 6.000 posti replica l'assessore delle noci per il comune non c'è nessuna spesa imprese troppo piccole invece e poco competitive è il giudizio impietoso della Camera di Commercio che ha fatto un'analisi sul raffronto dei dati provinciali fino al primo trimestre dell'anno tra i settori trainanti emerge il turismo ma con l'offerta di vacanze più brevi e di livello qualitativamente superiore quest'anno salta il tradizionale convegno, si taglia sui costi in vista del riassetto regionale delle Camere di Commercio. La pagina di Fano invece si occupa delle votazioni che si sono tenute domenica per eleggere il nuovo consiglio dell'ente carnevalesca, Cecchini verso il terzo mandato da Presidente ai candidati della lista Pacassoni avanti coi cari ha segnato all'incirca il 33% delle preferenze i soci dell'ente si sono presentati in massa alle votazioni e lo scrutinio è stato lungo, molto lungo in serata lo spoglio delle schede mostrava una forbice consistente tra il Presidente che va verso la riconferma con oltre il 60% dei voti e alcuni soggetti che si erano candidati invece con l'altra lista quella antagonista al Presidente uscente, quella della famiglia Pacassoni. Sotto invece frana di Viale Kennedy e Orciano raccolte oltre mille firme, inaugurato invece un nuovo lotto di asfaltature sopra il luogo del Sindaco Seri e dell'Assessore Fanesi per l'avvio del cantiere in particolare a Torrette di Fano. Cambiamo giornale, adesso andiamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro i cittadini pagano le vostre indecisioni, parole di Ceriscioli che striglia i sindaci pressioni su Ricce Seri perché scelgano il sito, dopo mesi di lavoro abbiamo tutti gli elementi per chiudere il percorso il prima possibile. Poi un network di monitor, sono i televisori sulle spiagge, saranno installati 15 schermi, in tempo reale tutte le informazioni sugli eventi estivi si potrebbe partire già a giugno, l'iniziativa avrà una ricaduta in termini di immagine dalla Baia a Sottomonte. Ancora dalla pagina di Pesaro e Urbino, guardate in che condizioni viveva anzi questo marocchino di 20 anni, la stanza ricavata all'interno di una casa cantoniera in cui viveva questo ventenne, una vita tra degrado e sporcizia, il giovane aveva abbandonato la famiglia, si era rifugiato in una vecchia casa cantoniera. La pagina di Fano invece anche qui, il presidente Cecchini verso la rielezione, scrutinio avanzato in testa e in testa le preferenze, maggioranza alla sua lista, stranezze però nell'urna Ruben Mariotti commenta, in ogni caso i consiglieri alternativi porteranno voci nuove per il cambiamento. E quali sono le stranezze nell'urna? Sono risultati, alcune schede in più dei votanti e quindi cinque membri del seggio poi hanno dato forfè, probabilmente stremati dalla fatica credo, più che per le stranezze nell'urna. Comunque sono risultate alcune schede in più dei votanti, questo perché il meccanismo di voto evidentemente dovrà essere rivisto anche perché tutti, diciamocelo chiaramente, non si aspettavano un'affluenza, non c'è mai stata alla carnevalesca un'affluenza così imponente per andare a votare il presidente o comunque per andare a votare il nuovo consiglio di amministrazione. Vistose assenze di PD e opposizione, questa è l'analisi di Lorenzo Furlani sul Corriere di questa mattina a proposito della marcia di domenica scorsa a Fosso Segliore in consiglio, ecco una particolarità, un'analogia che diventa un controsenso se vogliamo, in consiglio era stata approvata una mozione con le stesse richieste della marcia, pochi i referendari però presenti. Per Fratelli d'Italia invece Minardi è il sindaco Ombra, Lega Nord pressing sui consiglieri locali. Ancora dal Corriere Adriatico il nuovo sindaco appeso al quorum, sì perché a Mondavio c'è un candidato unico, mentre nella vicina Mondolfo c'è una infinità di liste, a Mondavio c'è solo un candidato che il prossimo 5 giugno si presenta alle amministrative e dunque non avendo sfidanti l'unica speranza per essere eletto è quello di superare il quorum, quindi l'invito non è a votare quella persona ma è andare comunque a votare perché ci deve essere il quorum. è una settimana comunque intensa per tutti coloro che si candidano alle prossime amministrative, qui in provincia ne abbiamo diversi di centri dove appunto si rinnovano i consigli e appunto il primo cittadino. Andiamo sulla pagina di Senigallia, in apertura, bagnini di salvataggio, c'è l'accordo, il comune stanzia 42 mila euro per le spiagge libere, il via il 4 di giugno, tensione tra i consorzi. Andiamo invece sull'altra pagina per la cronaca di Senigallia, la caldaia va in blocco e lui dice sono vivo per miracolo, mio figlio doveva fare la doccia, stavo telefonando al tecnico quando c'è stata l'esplosione, vado a Cesena per controlli, per fortuna avevo gli occhiali che si sono squagliati ma mi hanno salvato la vista. Poi due lutti, addio a Gianluca Mucci, attivista di 5 Stelle, sotto è morto Renzo Moschini, fisico innovativo e brillante tra i massimi esperti di leghe in alluminio. Queste le pagine del Corriere Adriatico. Adesso per chiudere la rassegna stampa guardiamo il resto del Carlino. Sulle unioni civili il sindaco è obiettore, il sindaco di Pergola è un caso, la legge verrà applicata dagli uffici, non dal primo cittadino, mentre il DJ annuncia un matrimonio in spiaggia. Centropagina la fotografia è per i furbetti del canone della RAI che non pagano l'anno scorso 1 su 5, pari a 24 famiglie non lo pagava ma ora inizia l'epoca della bolletta elettrica. La vipera non ferma invece il giudice sulle spese pazze in regione. Dopo il morso Mirco Ricci chiede il rinvio che però, come abbiamo detto, è stato respinto. Dalla pagina di Urbino invece per l'ospedale polemiche forti. Qui si litiga Magalotti va a Fano, il consigliere comunale 5 Stelle, destra e sinistra, perdono tempo. Quanto al nosocomio unico avevamo ragione noi e occhio al rischio leasing. L'altra pagina, Greta, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi nel telegiornale, intervistandola. Davvero una bella notizia. Greta, un ramanzo scritto a 8 anni. Pensate, non mi vanto del mio libro, dice lei, ma incito gli altri a scrivere. Oggi la bambina presenta il compleanno perfetto. E poi, sempre sul Carlino, sugli espropri, esplode la rabbia di Don Marco Polverari. Siamo tornati come ai tempi di Nerone, dice lui. Il prete continua la sua guerra contro società autostrade. Lui chiaramente fa l'accollante insieme ad altre persone che si vedono portare via pezzi di terreno, a volte anche fin sotto casa. In tanti mi hanno contattato, ma non vogliono esporsi. Il passaggio è adesso in tribunale. La pagina di Fano, carnevalesca, Cecchini, verso la riconferma, scrutatori allo stremo. Due terzi dei voti per il presidente uscente. Cecchini dice che i numeri sono sempre stati dalla nostra parte perché in questi anni abbiamo lavorato con dedizione, mentre Flora Giammarioli, che è un'attrice, anche imprenditrice. Quando ero vicepresidente di Cecchini non mi sentivo libera di esprimermi, ma non vogli far polemica. E poi ci sono le parole anche di Mariotti e di Pacassoni, due carristi che potrete leggere sul quotidiano di oggi. Eccolo qua il sindaco che si sente obiettore sulle unioni civili. Il sindaco si sente obiettore. Francesco Baldelli ritengo la legge una vera e pericolosa forzatura rispetto alla nostra società. La legge sarà applicata. Delegherò i miei uffici. A Pergola come a Piobbico non ci sono registri di unioni civili. Non ne abbiamo mai avuto bisogno. Mocchi dice legge sbagliata. Apre la strada alle adozioni per le coppie gay. E direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la rassegna stampa che torna domani mattina alle 7.30. Grazie per la vostra attenzione. A voi tutti l'auguro di una buona giornata.